Oggi sabato 14 settembre è la festa dell'esaltazione della Santa Croce. Il brano del Vangelo secondo Giovanni mostra un movimento paradossale. Quanto più il Figlio di Dio discende, tanto più viene esaltato dal Padre. Secondo Giovanni l'esperienza di Gesù ha il suo apice, il suo tempo di gloria sulla croce. Non è facile comprendere il motivo per cui i cristiani si siano messi a festeggiare uno strumento di tortura, simbolo di una morte cruenta, spietata, per lo più nel caso di Gesù ingiusta. L'unica spiegazione possibile è che per i cristiani esaltare la croce di Cristo vuol dire fare un atto di fede, celebrare l'importanza nella vita dell'esperienza del limite, della fragilità, dell'insuccesso. Così la fede cristiana, grazie proprio a questo mistero di gloria, porta anche in sé una sapienza umana. Solo chi si abbassa si lascia rialzare, solo chi si fa piccolo si lascia guidare, solo chi si fa povero si lascia arricchire. Ecco allora che esaltare la croce di Cristo ci fa bene, ci edifica come persone, ci ricorda che in ogni situazione della nostra esistenza, anche in quella di estrema fragilità, la nostra vita non va buttata via. Al contrario, può diventare una grande testimonianza di tutti quei valori più veri, più profondi, che sfuggono agli occhi di questa nostra società che è così tanto superficiale. Oggi dunque c'è posto per la speranza, ave crux, spesso unica, così canta la liturgia. Sì, perché la fede cristiana ci assicura che quando uno sperimenta in questa vita l'umiliazione, l'insuccesso, la prova, non è su una via di declino, ma se ci si appoggia alla croce di Gesù si è invece su un cammino di gloria, cioè su un percorso di luce che apre ancora di più il cuore alla novità, alla speranza. I cristiani ortodossi festeggiano questa festa qui in un modo particolare, contemplando in essa la bellezza di Gesù, la sua bontà verso i più duri di cuore, la sua pazienza, la sua amitezza, verso chi non sa di essere amato e non conosce l'amore. E se solo pensassimo che il mistero della più grande umiliazione nasconde invece la più grande glorificazione, ecco, allora ci accorgeremo che l'universalità della salvezza di Cristo è scritta sulla croce perché lì il Padre ci rialza insieme a Gesù. Santa Caterina da Siena, per citare una santa italiana che ha avuto un amore appassionato per Gesù crocifisso, così scriveva nella lettera 165 a Bartolomea che era moglie di Salviato da Lucca, scriveva queste parole vivendo in Dio non si può avere alcuna amarezza perché Dio è letizia, dolcezza, gioia infinita. È questa la ragione per cui gli amici di Dio sono sempre felici, anche se malati, indigenti, afflitti, tribolati, perseguitati, noi siamo nella gioia. Quando anche tutte le lingue maldicenti ci mettessero in cattiva luce, noi non ce ne cureremmo, ma di ogni cosa ci rallegriamo e gioiamo perché viviamo in Dio nostro riposo e gustiamo il latte del suo amore. Come il bambino attira il latte dal seno della madre, così noi, innamorati di Dio, attingiamo l'amore da Gesù crocifisso, seguendo sempre le sue orme, camminando insieme a Lui per la via delle umiliazioni, delle pene, delle ingiurie. Non cerchiamo la gioia se non in Gesù e fuggiamo ogni gloria che non sia quella della croce. non preoccuparti di tante cose, ma solo di trovare Gesù e andarli dietro. Corri Bartolomea e non stare più a dormire perché il tempo corre e non aspetta un solo attimo. Rimani nel dolce amore di Dio. Gesù dolce, Gesù amore. Splendide le parole di Santa Caterina. E adesso ascoltiamo le parole del Vangelo secondo Giovanni capitolo 3 versetti 13 17. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito perché chiunque crede in lui non vada perduto ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui.